io sono il vostro capitan max berrofronzo benvenuti in un nuovo episodio dell'alta oggi è il 29 di marzo e sono molto contento del fatto che oggi il green screen o comunque sia l'illuminazione del green screen siano ancora più sminchiata del solito perché arrivo tipo a momenti dove i miei capelli sono quasi invisibili a momenti dove praticamente qua dietro si nota perfettamente che la magia del natale comincia d'accordo a sfarfallare questo perché fuori fa una luce allucinante e quindi se chiudo gli scuri non si vede un cazzo mentre se li apro e vengo totalmente abbagliato e la telecamera non riesce a gestire il chroma key però non fa niente passo immediatamente ad elencare le cose belle brutte eccetera eccetera che sono successi in questo 29 marzo nel 1848 per la prima volta da quando diciamo così si continua a segnare l'andamento della storia si registra il fatto che le cascate del niagara sbettono di fluire questo è successo perché più su sul fiume del niagara c'è stata una gelata improvvisa che ha praticamente interrotto per un po il flusso e quindi le cascate conseguentemente hanno praticamente smesso di fluire per qualche tempo circa vent'anni dopo nel 1867 gli stati uniti comprano dalla russia per un prezzo pari a 7.2 milioni di dollari l'alaska che come potete vedere da questa immaginetta è molto più vicina alla russia di quanto non lo sia effettivamente agli stati uniti circa vent'anni più tardi di nuovo nel 1886 la coca cola va in vendita per la prima volta in un negozio praticamente di alimentari in atlanta il suo inventore il dottor john pemberton sosteneva il fatto che questa coca cola potesse curare più o meno qualunque cosa dalla isteria ai comunissimi raffreddori nel 1973 gli stati uniti si ritirano finalmente dal vietnam dopo la guerra il vietnam è questo paese fichissimo che vedete qui a lato comunque sia dopo la guerra del vietnam il totale dei morti ammonta 930 mila nord vietnamiti 180 mila sud vietnamiti e 45 mila statunitensi morti più di un milione quasi un milione 200 mila persone morte per questa guerra qui nel 2006 infine il cantante gallese tom jones ottiene il cavalierato della regina elisabetta seconda e diventa quindi di sir tom jones per quanto riguarda i morti importanti nel 1891 morì george seura un pittore francese diciamo così iniziatore o comunque fervido sostenitore della corrente del puntilismo che morirà giovanissimo a 31 anni per quanto riguarda invece i nati famosi oggi nel 1941 nasceva un certo mario girotti in arte terence il attore italiano perché effettivamente è nato a venezia ora io veramente potrei parlare mezz'ora di questa persona perché sono cresciuto con i suoi film perché mi ha tenuto compagnia assieme a bad spencer per gran parte della mia vita perché mi piace perché mi piacerebbe poter parlare di tutta quanta la sua carriera eccetera eccetera però secondo me sarebbe un po far piovere sul bagnato nel senso che tutti quanti voi conoscete terence il è un attore tipo famoso a livello planetario e tre quarti di voi anche i più giovanissimi dovrebbero poter sapere chi è anche per il fatto che è tuttora molto famoso all'interno della serie di don matteo oltre a tutto quanto quello che ha fatto nella parte di carriera precedente però oggi mi piacerebbe spendere due parole per un'altra attrice che anche lei mi ha tenuto compagnia per gran parte della mia vita e notate che mi sto tirando su le maniche mentre mi accingo a dire il suo nome perché oggi nel 1968 nasceva Lucy Lawless un'attrice neozelandese universalmente famosa per aver interpretato la parte di Xena nell'omonima serie di Xena la principessa guerriera assieme ai power ranger di cui stanno facendo la maratona in questo momento su twitch ed hercules un altro immenso telefilm che mi ha tenuto a compagnia per un sacco di tempo oltre vabbè a baywatch ma quello era più roba da seghe xena la principessa guerriera mi ha formato nel nel carattere e in un sacco di modi in cui non pensavo fosse possibile formare una persona semplicemente guardando un telefilm mi ha insegnato il rispetto per le donne mi ha insegnato che una principessa può anche non essere quella che perde la scarpina ma anche una che tipo fa il culo alle persone prendendogli a calci è stata un'attrice talmente iconica ad avere un'arma che se praticamente tu la vedi la ricolleghi immediatamente come pensiero a lei cioè io non so a parte praticamente non so le katane i bo e i nunchaku delle tartarughe ninjas esistono armi altrettanto iconiche però effettivamente se tu vedi il disco rotante d'acciaio di xena ti viene in mente per l'appunto xena non riesco neanche a dire disco rotante d'acciaio senza metterci l'accanto di xena alcune curiosità su di lei sono che questa persona sa cantare infatti ha praticamente un background di tutto rispetto nel campo del teatro ha addirittura partecipato a una rappresentazione di gris nel 97 si è chiusa la scura e quindi io adesso sono di nuovo carato nelle tenebre di camera mia comunque sia questa persona è un attivista della green piece infatti ci sono state delle volte che si è fatta arrestare per il suo attivismo e in più è anche un appassionata di arti marziali perché cintura nera di karate shotokan che non ho neanche idea di che cazzo sia ma sembra una cosa per la quale mi potrebbe fare il culo quindi oggi veramente nascita di due personaggi enormi terence hill e xena principessa guerriera wow wow non c'è nient'altro da dire sul serio e questo qua era veramente tutto per oggi perché mi devo preparare ad andare in live so che questo episodio probabilmente uscirà solamente alle 9 e qualche cosa comunque sia prima di mezzanotte perché lo sto registrando che sono circa le 4 del pomeriggio però considerato che io dalle 5 alle 8 tutti i giorni su twitch vado in live trovate comunque il link qui in descrizione mi devo preparare per effettivamente questa live io vi ringrazio come al solito per la partecipazione vi invito a lasciare qui sotto un commento per quanto riguarda non so l'apprezzamento per quello che potrebbero essere i vostri fasti del passato per terra in silo per lucy lawless e appunto considerato che non l'altro è rimasto a dire del vostro capitano max berro fronzo adios a todos a tutti Grazie a tutti.